Incidente stradale tra un'auto e uno scooter questo pomeriggio, poco dopo le 13, lungo l'interquartiere di Fano. Un Opel Mocca condotta da una fanese di 39 anni che procedeva su via Indipendenza in direzione Maremonte, entrata in collisione con uno scooter di grossa cilindrata che procedeva su via Pertini in direzione Ancona, condotto da un uomo residente a Fano di 65 anni. La dinamica precisa dell'urto è ancora al vaglio della polizia locale di Fano, intervenuta sul posto con la sezione infortunistica, ma dai primi rilievi risulta che l'auto, nell'impegnare l'incrocio, ha invaso la corsia di pertinenza dello scooter. Il suo conducente, per le conseguenze del violento urto con la parte anteriore destra dell'auto all'altezza del passaruota, è stato portato dal 118 al pronto soccorso di Fano per accertamenti. Oltre al 118, che ha prestato i primi soccorsi all'uomo, anche la pattuglia della polizia locale che ha eseguito i rilievi di legge e regolamentato la circolazione particolarmente intensa sull'arteria cittadina in quell'ora del giorno.